248esimo anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza, oggi si fa anche un bilancio? 248 anni sono un bel po' di tempo. In 248 anni la Guardia di Finanza ha saputo esprimere grandi potenzialità sotto diversi punti di vista. La Guardia di Finanza è una forza di polizia a ordinamento militare che è presidio di legalità sul territorio per tutti i cittadini onesti, per le imprese che producono reddito, per gli imprenditori sani, coloro i quali hanno a cuore il nostro paese. La Guardia di Finanza tutela la legalità. La Guardia di Finanza in questi 248 anni ha saputo esprimere, in una storia importante, grande esempio a tutto il paese e soprattutto alla gente onesta, alla gente che si affida alle istituzioni. Nella circostanza voglio sottolineare che la missione del corpo è quella, oltre che di tutelare la gente onesta, le imprese oneste, le imprese che rispettano le regole, la missione del corpo è quella di individuare le sacche di illegalità e di stroncare le attività che vanno a ledere quelli che sono gli interessi dello Stato. Sono gli interessi fondamentalmente legati a quelle che sono le peculiarità dei bilanci non soltanto dello Stato, ma dell'Unione Europea, delle regioni e degli enti locali. Questa è la nostra missione, stare in mezzo alla gente, ascoltare la gente per bene e soprattutto essere al loro servizio nei momenti di difficoltà. Sostenendo la gente seria, la gente che ha valori e nello stesso tempo creando non pochi problemi a coloro i quali attendono a quelli che sono i principi fondanti della nostra istituzione.